E' stato bloccato dalla polizia mentre lanciava sassi dal cavalcavia di Venezia a Gela l'indirizzo dei veicoli in transito. Il protagonista dell'assurdo vicenda è un ragazzo adesso segnalato alla procura dei minori di Caltanissetta. Ha agito assieme ad altri giovanissimi tutti in corso di identificazione. L'accusa è pericolo per la sicurezza dei trasporti su terra lanciando corpi condundenti, pietre della ferrovia, contro i veicoli in movimento. I poliziotti del locale commissariato che hanno agito in borghese erano appostati nella zona proprio a seguito dei numerosi danneggiamenti dello stesso tipo avvenuti giorni prima. Il minorenne è stato prontamente bloccato e così facendo si è riusciti ad impedire che il pericolosissimo gioco continuasse. Sempre la polizia nell'ambito di specifici servizi di prevenzione e repressione con particolare attenzione alla circolazione stradale ha ispezionato i ciclomotori elettrici con pedalata assistita rilevando che in diversi casi stessi circolavano anche senza l'ausilio dei pedali da parte del conducente. Agli utenti è stata contestata alla guida senza patente sprovvisto di targa, mancato uso del casco protettivo e della copertura assicurativa. La polizia invita gli utenti della strada ad osservare scrupolosamente la normativa in vigore che non prevede modifiche strutturali ai mezzi in questione, le cui caratteristiche non possono essere modificate. Si rischiano sanzioni e confisca immediata del mezzo. Gli agenti di polizia hanno denunciato i gelesi di 42 e 33 anni per truffa sono stati individuati quali autori di una finta vendita online di un'autovettura ad un prezzo vantaggiosissimo che però, dagli accertamenti effettuati dall'ufficio del commissariato, è risultata inesistente. Nell'ambito dei vasti controlli sono state passate a raggi X le posizioni di 368 persone ed ispezionati 436 veicoli, uno è risultato rubato e rivenduto, 9 le perquisizioni effettuate e 17 le multe al codice della strada elevate.